Ma è stata una finale abbastanza tesa, le ragazze erano tese, poi c'era un caldo infernale, quindi l'attesa fuori, la partita, il caldo, comunque è stata una bella partita combattuta, le ragazze hanno saputo reagire anche in momenti di difficoltà, non abbiamo fatto la partita migliore, ma insomma le finali di solito sono così, complimenti anche agli avversari comunque che ci hanno dato filo da torcere. Secondo me questo è un gruppo molto unito, loro si allenano praticamente l'estate scorsa assieme, secondo me l'arma è proprio la volontà che ci mettono sempre e il grande gruppo che hanno fatto. Per i regionali non so cosa troviamo, comunque faremo una partita alla volta cercando di andare più avanti possibile.